A Canicatì è precisamente in corso Umberto, da ieri è affissa una lapide che ricorderà alle generazioni presenti e future la figura di Lelio Basso e il tragico episodio del 21 dicembre del 1947. Forse non tutti sanno che in quella data di 71 anni fa la Camera del Lavoro aveva indetto uno sciopero generale contro il caro vita, la miseria e la disoccupazione. E durante la manifestazione avvennero degli scontri che costarono la vita a tre cittadini e un carabiniere e si contarono numerosi feriti. A difendere coloro che furono accusati di aver fomentato la folla fu appunto Lelio Basso ed è proprio un pensiero di basso che oggi campeggia sulla lapide. Un triste destino ha accomunato quel giorno sulla piazza di Canicatì carabinieri e lavoratori caduti. Ha confuso il sangue degli uni e degli altri che poi è lo stesso sangue che scorre nelle vene della povera gente del nostro paese.